Buon pomeriggio a tutti, per me è molto bello essere qua oggi, sono davvero contento di avere questa possibilità di aprire oggi la mostra. Innanzitutto mi scuso perché Alberto, il mio socio, doveva essere qua con me oggi, ma poi un imprevisto di lavoro, quegli imprevisti di lavoro che sempre succedono, ahimè, lo ha tenuto in studio, però mi manda i saluti a come se fosse qua con me. Ringrazio tantissimo l'Università, il Politecnico, per aver dato la possibilità a noi di montare questa mostra, una piccola mostra che raccoglie parte della nostra produzione, poi magari alla fine avrò più tempo per fare dei ringraziamenti, però cito solo velocemente Franco, che è stato un po' l'artefice, il professor Tagliabue, di aver portato qua la mostra, di averci dato questa possibilità. E poi ringrazio i presenti che erano oggi, il professor Bricoccoli, Cino, Franco e il professor Biraghi per le loro presentazioni, che sono tutte estremamente interessanti e dopo così tante presentazioni sono anche un po' intimorito, non so bene cosa dire, se la presentazione è pertinente con quello che magari ci si aspetta. Oggi la mia presentazione sarà molto breve, abbiamo fatto così anche a Venezia, non credo che è il momento per fare una grande lecture sui nostri lavori, i lavori sono lì, li vedete e credo che è la cosa più utile alla fine. Però cerco di inquadrare un po' i motivi di questa mostra, come è nata e da dove viene, insomma così. L'occasione della mostra è nata tre anni fa, quando abbiamo ricevuto un invito da una galleria d'arte per preparare una mostra, era la prima volta che avevamo l'occasione di presentare una mostra personale e questo per noi era presentato un po' un punto di inflessione, quando qualcuno ti offre la possibilità di fare una mostra personale e poi prima di tutto devi pensare se hai un corpus di lavoro che regga, insomma, veramente per presentarlo diciamo da soli. Abbiamo accettato questo invito, abbiamo iniziato a lavorare, c'è stato proprio nel frattempo un piccolo inghippo perché gran parte del materiale che avevamo soprattutto dei lavori svizzeri è stato, abbiamo donato al Santo Pompidou, quindi siamo rimasti quasi senza materiale, tanti schizzi, tanti disegni autografi, modelli, sono venuti a fare, sono entrati a far parte della collezione del Pompidou, quindi abbiamo dovuto un po' reinventare, ricapire un po' cosa volevamo presentare. Dopodiché, mentre stavamo lavorando, è arrivato, ahimè, la pandemia, ha bloccato tutto e la mostra è rimasta un po' lì e questo ci ha fatto un po' cambiare i piani e abbiamo deciso di riturre un po' quello che la mostra poteva contenere e di cercare di organizzare una mostra un po' itinerante per portarla un po' in giro. È iniziata all'OIU a Venezia, che è la scuola dove mi sono formato, è stato veramente interessante, insomma, avere la possibilità di iniziare di lì e poi abbiamo appunto iniziato, l'abbiamo portata qua al Politecnico e poi andrà da qualche altra parte e poi ritornerà finalmente al luogo d'origine. Questo è come è nata un po' questa occasione. I disegni, quello che vedrete nella mostra, in realtà ci sono, quasi tutti i progetti sono presentati un po' allo stesso modo, con delle immagini, dei modelli, alcuni modelli li avevamo già, altri appunto li abbiamo fatti proprio per la mostra, tutti alla stessa scala, per cercare di dare una certa, come dire, omogeneità di presentazione al nostro lavoro e non tanto presentare solo un progetto, ma presentare un po' il lavoro, diciamo il corpus di lavoro dello studio. Ci sono, per la prima volta mostriamo dei disegni, degli schizzi che facciamo, qualche parola su questo tipo di disegni. I disegni che vedrete lì sono dei disegni che in qualche modo fermano un istante. Di solito quando lavoriamo riempiamo molti quaderni, pagine, eccetera, di disegni molto brutti, proprio di lavoro, però c'è un momento, c'è un istante, quasi sempre in tutti i progetti, dove la narrazione che vogliamo attribuire a un progetto in qualche modo si cristallizza, diventa chiara, no? E ci sono dei disegni che più che disegni sono quasi degli schemi molto istantanei che più che definire, come dire, la forma di un edificio definiscono una narrativa, no? E i disegni che troverete lì fanno proprio questo, è il punto d'inizio della scoperta di un percorso che vogliamo dare al progetto, non sono dei disegni, come dire, l'assizza, in qualche modo che dove sono fatti per definire l'elemento, sono in realtà solamente dei punti di inizio della storia, di una storia di un progetto. Poi abbiamo fatto una selezione di disegni, ci sono quasi sempre gli stessi disegni, un dei grandi site plan, che è quello che vogliono esprimere essenzialmente questa necessità di un confronto con la città, che è sempre con l'urbano, che è un po' un tema, diciamo, trasversale, che fa parte di tutti i nostri lavori e l'abbiamo voluto un po' esprimere attraverso la presentazione di questi grandi site plan che mettono l'edificio, l'oggetto in relazione alla città. Ci sono poi qualche disegno significativo, una sezione, una pianta, molto pochi, solo quegli elementi chiave in realtà che guidano, diciamo, la sintesi del progetto. Tutti i nostri lavori sono, un po' se ne parlava prima, cercano di essere sintetici, sono semplici, sono a volte quasi schematici. C'è sempre un documento, una pianta, una sezione che è quello che è l'elemento, il motore, diciamo, del progetto. E poi presentiamo qualche dettaglio, qualche dettaglio importante del progetto, anche perché poi come si costruisce è l'altro dato fondamentale della nostra produzione. Non siamo interessati solo a fare dei progetti quello che ci interessa, quello che per il quale ci sforziamo è riuscire a costruire. Alla fine intendiamo l'architettura solo come dato costruito, in qualche modo. Tant'è vero che tutti i lavori che vedete lì sono dei progetti o realizzati o che stanno a punto di essere realizzati, a parte, credo, un paio o due che però sono stati importanti per lo studio. Però dei tanti lavori che abbiamo fatto, la selezione che c'è lì, rappresentano, diciamo, i lavori che potremmo costruire. Qua a Milano, ahimè, un po' per lo spazio, abbiamo ridotto un po' la presentazione, ci troverete 12 lavori, a Venezia c'erano 16, poi nell'altra ne presenteremo 20. Questo è solo per, diciamo, un piccola introduzione. Beh, nelle presentazioni prima si sono toccati dei temi importanti, insomma. Franco ha un po' spiegato la nostra biografia. Alla fine credo che quello che uno fa, e poi lo racconterò in questo testo, piccolo testo che vi leggo, si deve in gran parte effettivamente alla propria storia personale, alla biografia. Questo era qualcosa che fino a un po' di tempo fa non era per me molto chiaro, a dire la verità. Pensavo che tu la vita era una cosa, poi quello che facevi era un'altra, in realtà, no? In questi ultimi anni, forse perché uno sta maturando, si rende conto che le vicenti personali, la biografia intima, questa educazione che uno riceve ha un'importanza capitale in quello che si fa, anche se forse uno a prima vista non lo coglie. Il professor Biraghi ha, come dire, ha dato anche un po' nel segno, notando il titolo della mostra, un titolo che per certi versi anche a Venezia è stato un po' polemico, in qualche modo, no? Con il professor Pogacini è stato un po' motivo di discussione, no? E poi anche questo, è stato un tema anche molto importante per noi scegliere il titolo, come nominare questo corpul di lavori, no? E poi cercherò anche di parlare un po', molto brevemente di questo. E il professor Zucchi ha centrato, chiaramente, forse perché conosce anche un po' quello che facciamo, e questa quasi antinomia fra tipo, individuo, individuo, è la base di tutto quello che facciamo, è una ricerca dichiarata in tutti i nostri progetti, come poter effettivamente essere parte di qualcosa e essere al contempo un individuo, in realtà. E anche questo lo cercherò di mettere un po' a fuoco in questa presentazione. Un po' di tempo fa, qualche anno fa, in una presentazione che facevamo a Barcellona, e qua nasce un po' il motivo della presentazione di oggi, io Alberto avevo presentato un po' come sempre i nostri lavori, il perché facciamo una cosa, il perché facciamo un'altra. Nella platea c'era un carissimo amico, Riccardo Buggordon, e a un certo punto, alla fine della presentazione, quando c'era un dibattito, Riccardo ha fatto una domanda che mi ha completamente spiazzato, no? E lui raccontava, io durante la presentazione ho cercato di spiegare un po' come faccio sempre questo, diciamo, le radici concettuali che stanno alla base del lavoro. E Riccardo però la filmi fa, sì, però Fabrizio, insomma, a parte quello che oggi ci ha raccontato, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, perché fate quello che fate, no? E lui ha fatto un esempio, Riccardo ha lavorato moltissimi anni con Paolo Mendes da Rocha, è stato autore con Paolo Mendes del Museo Lisbona, ha lavorato con lui, lo conosceva così. E mi raccontò anche dopo la presentazione che Mendes da Rocha gli raccontava sempre, che ogni volta di più sente che tutto quello che fa lo doveva in parte alla sua educazione, al lavoro del padre che era ingegnere, e questo il modo in cui affrontava l'architettura, il modo in cui metteva alla base dei suoi progetti il dato strutturale, faceva parte, sì, di una tradizione ampia dell'architettura, della tradizione quasi architettonica brasiliana, però veniva in parte anche da questa educazione, da questa vicenda personale, da questa biografia. Beh, questa questione mi completamente mi lasciò spiazzato in qualche modo, infatti nella conferenza non fui capace di, non riuscì a dare una risposta, il perché, al di là di quello che, come dire, al di là di quella che, diciamo, i concetti di architettura del quali sempre parliamo. E su questa cosa ho davvero riflettuto parecchio durante gli ultimi tempi. E questo è un po' il motivo per il quale oggi vi racconto quello che vi racconto, no? Che è una cosa che ho iniziato a raccontare a Venezia in occasione della prima mostra e l'ho un po' maturato poi un po' di tempo fa in una presentazione che abbiamo fatto all'Academy d'Architecture, che siamo diventati membri, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi, questa mattina, velocemente ho tradotto un po' e anche pasticciato un po' un testo che avevo preparato in francese e l'ho un po' prodotto in italiano. E questo ora cerca un po' di spiegare i motivi di questa riflessione che poi sono alla base della mostra. In questo testo, dicevo, adesso inizio a leggere, non è molto lungo, sono venti minuti. Allora, nel 2004, per una serie di circostanze quasi fortuite, ma anche in un modo o nell'altro cercavamo, Alberto ed io siamo arrivati a Barcellona, la città dove oggi viviamo e lavoriamo. E credo che questi primi anni di lavoro hanno veramente dato forma agli architetti che siamo oggi. Le nostre formazioni accademiche erano diverse, molto diverse anche. Una volta arrivati a Barcellona ci siamo trovati in una città dove esisteva una scena architettonica completamente nuova e anche estranea per entrambi. La mancanza di incarichi diretti, locali, di piccola scala, il tipo di incarichi che avrebbero potuto aiutarci a iniziare il nostro studio, ci incoraggiò a lavorare essenzialmente a livello internazionale fin dall'inizio. Il lavoro di questi primi anni si svolse quindi indipendentemente dal contesto della città in cui vivevamo e lavoravamo, il che forse determinò anche un tratto distintivo nel nostro modo di lavorare. Più che dal contesto locale in cui ci trovavamo, il nostro lavoro era influenzato da ciò che avevamo imparato durante i nostri anni formativi e in particolare, specialmente nel mio caso, da un certo momento di quel periodo. Quello che facciamo, quello che ogni persona fa, viene da lontano. Ogni architetto ha la sua storia e questa storia è una narrazione molto intima, molto profonda. Ogni progetto non inizia quando si inizia a disegnare, ma piuttosto quando si inizia a studiare architettura. Ecco, nel mio caso, credo di aver voluto diventare architetto quando ho visto per la prima volta Casa Malaparte. Ricordo chiaramente quando forse dodicenne scoprì per la prima volta questo progetto e ne rimasi completamente affascinato. Una sorpresa rivelatrice scoprire che un architetto della mia piccola città, ad Alberto Libera, aveva costruito una casa straordinaria su un'isola lontana, in un luogo che allora mi era quasi estraneo e vedevo quasi esotico, su un'isola del Mediterraneo. Questa casa fu la prima architettura moderna che mi affascinò e per molti anni ho pensato e ripensato a questo progetto e confesso oggi che c'è molto di Casa Malaparte nel lavoro che facciamo. Quando iniziai a vedere quest'opera con gli occhi di un architetto mi resi conto che ciò che più mi affascinava e sorprendeva era il rapporto che alcune semplici forme elementari riuscivano a stabilire con un luogo, un luogo straordinario ma difficile, duro, e il magnifico contrasto tra la natura e l'artificio dell'architettura, capace di rivelare la dimensione metafisica del paesaggio. Mi sorprese vedere in alcuni dei primi disegni di Libera o Malaparte come forme estremamente elementari e quasi schematiche si trasformavano attraverso un elemento apparentemente straneo come la scala e definivano un'architettura capace di scoprire un mondo, di rivelare una visione nuova, inaspettata e sorprendente di un contesto. E questa immagine è sempre rimasta con me, l'ho sempre portata con me perché svela forse la radice del progetto, ma la parte è fotografato davanti alla scalinata della chiesa dell'Annunziata a Lipari. E in qualche modo questo elemento architettonico che si trova semplicemente lì, qualcosa che è sempre stato lì, è trasformato ed integrato in casa Malaparte. È ovviamente una interpretazione la quale molti autori hanno parlato, ma è quello che ho sempre voluto credere. Malaparte o Libera lavorano con ciò che trovano, con gli elementi che già esistono nella tradizione delle isole, i due oggetti che vedete in queste litografie, un magazzino per il sale con una semplice forma prismatica e la scala delle chiesa sono già degli elementi costitutivi di casa Malaparte. Come dicevo è ovviamente un'interpretazione, ma devo ammettere che mi ha sempre affascinato ed emozionato vedere come dei semplici oggetti, qualcosa che è già lì, qualcosa che fa parte di una tradizione, degli elementi che fanno parte di un'architettura tradizionale e semplice, possano poi trasformarsi in qualcosa di enigmatico e misterioso, in un'architettura che attraverso forme estremamente primarie, elementari e quasi schematiche è in grado di stabilire un dialogo rivelatore con un contesto, con la specificità di un luogo e con gli elementi identitari di un luogo. Osservando casa Malaparte mi parse di capire come la combinazione di forme primarie dell'interpretazione dell'unicità e della specificità di un luogo e l'inserimento di un elemento estraneo al contesto immediato, ma che fa parte della tradizione e della memoria intima dell'autore, potevano costituire un'architettura. Mi sorprese vedere come questa scala, un elemento apparentemente estraneo al sito e in un certo senso quasi inutile, diventava poi l'elemento primario e cardinale dell'intero progetto, quello che gli offriva la sua ragione d'essere. Mi stupì capire come era proprio questo elemento estraneo in qualche modo al sito stesso che paradossalmente legava indissolubilmente il progetto al paesaggio. Queste relazioni non mi erano chiare all'inizio, non capivo bene il loro significato, ma gradualmente nel corso degli anni e come dicevo prima, soprattutto negli ultimi anni, ho scoperto come la grande influenza che in forse un modo inconscio questo progetto, questo modo di operare, ha avuto su quello che facciamo e sul modo come lavoriamo. Il nostro lavoro è radicato in questa lezione, forse questa doppia immagine rivela questa dipendenza. Il nostro primo lavoro si trova sulla meseta castigliana, ma la sua ragione d'essere risiede in qualcosa di molto più profondo che lega questo lavoro alle immagini che vi ho appena mostrato. Se osserviamo da vicino la nostra produzione scopriamo che la lezione di Malaparte si è tradotta per noi in una sorta di metodo di lavoro, potrei dire, un modo di definire un linguaggio. Se riflettiamo sui progetti che abbiamo realizzato è chiaro che in molti casi abbiamo rubato elementi da ciò che abbiamo semplicemente trovato e li abbiamo trasformati in nuove architetture. Come rivela questo disegno il progetto non è mai solo, è accompagnato da una presistenza, da qualcosa che ne costituisce il fondamento. Questo dialogo tra ciò che è stato e ciò che ci sarà è sempre presente nella nostra architettura e questo dialogo intimo è forse evidente se scorriamo qualche dei nostri disegni. L'immagine a sinistra mostra il precedente, l'esistente, l'architettura preesistente e a destra il progetto con il quale si relaziona. A Carsue le forme di un vecchio castello sono diventate un vuoto in un parco. L'influenza palladiana che permea la loggia di Brescia continua anche nella piccola biblioteca che avrebbe dovuto chiudere la piazza. La tradizione veneziana di Beirut si trasforma nelle logge di una nuova casa. Oppure un certo orientalismo romantico che pervive nella villa settecentesca dell'edificio originale permena anche il nuovo ampliamento del museo di Coira. Questi sono alcuni dei disegni però ne avrei molti altri da mostrare che insistono su questo tipo di relazioni. Tutti questi disegni mostrano un approccio al progetto che è stato raccolto in questo libro che vedete e che abbiamo pubblicato nel 2016 e poi in un'installazione che è divenuta un'installazione alla Biennale dello stesso anno. Alcuni di questi disegni che ho appena mostrato sono apparsi in questo libro, come dicevo, e assieme a diversi altri artisti per noi importanti che riflettevano sulla nozione di specificità, di tonalità, di tempo, di tradizione e così via. Nell'introduzione di questo libro vi era un breve testo il cui titolo era una monumentalità sentimentale ed era per noi una specie di manifesto del nostro lavoro. In esso abbiamo descritto la dicotomia fondamentale che ha guidato il nostro lavoro, la ricerca di un equilibrio tra la specificità del luogo e l'autonomia della forma, o fra tipo individuo, come diceva prima il professor Zucchi. Tutti i nostri progetti dipendono da questo concetto. Lo simbolo del titolo rivela il paradosso che anima il nostro lavoro, la dicotomia essenziale tra contestualizzazione e astrazione. La parola sentimentale che avevamo trovato in un testo di Frempton quando scriveva su Picchionis, si riferisce alla necessità di una certa empatia con il carattere e la condizione unica di un luogo, mentre la parola monumentale richiama la consapevolezza dell'inevitabile autonomia e solitudine dell'oggetto architettonico. Più tardi questo testo fu trasformato in un'installazione alla Biennale di Venezia, in un'installazione che esprimeva fisicamente questo modo di intendere il progetto descritto nel testo. Si trattava di un'installazione site specific, pensata per le corderie, per stabilire un vincolo con l'elemento identificativo di questo spazio, la colonna. Aggiungeva semplicemente un nuovo elemento archetipico alla serie infinita che già esiste, qualcosa che fa parte della specificità del luogo, ma al tempo stesso, proprio perché definisce un elemento archetipico, lo sfugge, gli è estraneo. Questo lavoro, questa installazione, rifletteva su come evidenziare l'unicità, l'identità di un luogo in un modo, in qualche modo, inaspettato. Si potrebbe dire, forse, che il nostro lavoro procede per analogie, analogie con la realtà fisica di un luogo, ma anche analogie con il vocabolario architettonico di un luogo, con il suo carattere, con i suoi elementi identificativi. Ma a volte questo lavoro, per analogie, va oltre la fisicità di un luogo, rimanda alla storia della disciplina, guarda i precedenti storici, come nel progetto di Coira, dove esiste un rapporto diretto con un ideale, in questo caso la rotonda palladiana. Gradualmente abbiamo cominciato a capire che il nostro lavoro ricerca essenzialmente una certa idea di continuità, una continuità con i luoghi e con un'architettura originale, una continuità con la storia. E di qui il titolo della mostra. Il titolo On Continuity ci interroga essenzialmente su cosa significa continuità, cosa significa in realtà l'idea di continuità. Per noi interpretare la specificità di un luogo, le diverse realtà che esistono in un luogo e di conseguenza significa capire la sua tradizione e come lavorare con essa. Nel libro blu che ho mostrato prima avevamo inserito una citazione dalla teoria estetica di Adorno del 1970. L'antico trova rifugio solo nell'avanguardia del nuovo, nell'interstizio, non in continuità. Per molti anni, per molto tempo abbiamo visto questa frase in testa, ma cosa significa esattamente? Beh, io non sono uno studioso di Adorno, però a me pare che dica che l'idea di tradizione non si perpetua in continuità, ma spiega anche che l'antico, la tradizione, si rifugia nell'interstizio. Ed è proprio in questo interstizio che ci interessa, è il modo in cui vogliamo interpretare l'idea di tradizione. Paradossalmente perché ci sia continuità con una tradizione e quindi con la specificità di un luogo, deve esserci un interstizio, un gap, un salto. Ed è proprio nell'interstizio di una storia che cerchiamo il nostro lavoro. L'interstizio è ciò che si genera quando un elemento della tradizione che appartiene a un luogo, a un paesaggio, diventa qualcos'altro e rivela un significato nuovo e inaspettato di un luogo. Questo interstizio per noi potrebbe essere proprio la scala di casa malaparte. E ci interessa questa prospettiva perché pensiamo che oggi sia importante riflettere su come preservare qualcosa, come preservare l'essenza dei luoghi, come rifiutare l'omogenizzazione dei luoghi, come interpretare e sottolineare le differenze. Offrire continuità a una tradizione non significa solo conservare, ma significa lavorare in questo spazio interstiziale, in questo frammento di spazio che ho appena descritto, in quello spazio interstiziale che permette in qualche modo di rivelare l'inatteso. Preservare la differenza, conservare l'unicità di un luogo è una delle priorità della nostra architettura. Si potrebbe dire che abbiamo iniziato ad essere interessati a lavorare con le contingenze di una situazione, cercando sempre un equilibrio tra storia ed innovazione. E l'aspetto forse vanguardista di certe opere per noi risiede nella ricerca del limite tra continuità filologica e interpretazione personale. Ora, se scorriamo velocemente un po' parte della nostra produzione, che poi potrete vedere nella mostra, credo che queste relazioni, che questi lavori, diciamo, rivelino chiaramente queste intenzioni. Il primo lavoro che abbiamo realizzato implicava un rapporto intimo con il paesaggio, un dialogo con la geografia e soprattutto con il tempo del paesaggio. Evocava un certo senso di permanenza, cercando il giusto tono che permette all'opera di diventare una parte naturale del paesaggio. Costruiva un microcosmo, un luogo pubblico, uno spazio civico, dove l'architettura è solo la cornice della vita pubblica. Questa ricerca dei primi anni si è poi cristallizzata nella filarmonica di Stettino. La filarmonica crea una certa tensione con il contesto, cerca di essere parte della città, ma allo stesso tempo rivela un'altra realtà possibile. La vocazione civica dell'edificio è espressa dall'incorporazione di una piazza pubblica all'interno, il foyer. Il foyer manifesta questo desiderio presente in tutti i nostri progetti di dar forma ad un'architettura civica e pubblica. E la sala principale rivela a sua volta il nostro desiderio di lavorare in continuità con una tradizione, con una storia, sfruttando la sua infinita capacità di produrre nuovi temi. In un certo senso la filarmonica esplora il legame con la matrice ideale di una tradizione, i limiti di una tradizione. Il progetto per un piccolo museo archeologico nel nord della Spagna ha segnato una svolta importante nella nostra ricerca, ha portato il progetto verso forme primarie, verso uno stato di base, aumentando il nostro interesse per un progetto di riduzione che cerca di riportare l'architettura ai propri fondamenti. E successivamente avevamo poco più di 30 anni quando abbiamo iniziato il progetto per il Museo Cantonale di Belle Arti a Lausanne. Questo progetto per Lausanne ha materializzato l'ambizione civica che ha animato il nostro lavoro fin dall'inizio, ma allo stesso tempo esprime un certo grado di astrazione, di autonomia. L'MSBA ha interpretato una situazione urbana, il suo carattere, la sua specificità, ma ha anche iniziato ad acquisire una piena consapevolezza della sua condizione oggettuale. Questa consapevolezza dell'importanza di una certa condizione oggettuale ha influenzato la proposta per il Museo di Coira, che ha acquisito un grado di autonomia e di concretezza che il nostro lavoro forse non aveva mai avuto prima. Queste idee furono posteriormente presto radicalizzate nell'Accademia di Danza di Zurigo, dove una logica costruttiva, sperimentale, pioneristica e in certo modo radicale ha rafforzato questa nuova consapevolezza del valore oggettuale dell'architettura e della sua condizione primaria. L'interesse per un certo senso di permanenza ci ha portati a ricercare un'architettura capaci di esprimere massa e gravità e di trovare il giusto tono per ogni contesto, anche se in alcuni casi questo significava cercare perfino un certo necessario anonimato, come nella piccola scuola di Brunico. La casa di Matarragna ha un debito con le riflessioni svizzere di cui vi parlavo, in particolare con il lavoro svolto a Zurigo, esplora nuovamente una certa condizione primitiva, quasi arcaica, e una situazione similare ha guidato i progetti per la famiglia Guerrieri Rizzardi sul lago di Garda. Una casa a Beirut ha ampliato la geografia della nostra esperienza e questa nuova condizione ha arricchito la narrativa che ha sostenuto le nostre proposte architettoniche. Gli studi per artisti a Londra e una sedia commerciale a Tokyo, entrambi situati in contesti per noi insoliti, evanescente a Londra e frammentario a Tokyo, sono paradigmatici anche di un cambio di tipo di lavoro che inizia per noi nel 2015. A Londra il lavorare in una zona industriale, priva di alcun riferimento urbano, senza un programma chiaramente definito, ha forzato in qualche modo la narrativa del progetto a evolvere verso un racconto più ampio, si potrebbe dire forse più onirico, che cerca una relazione non tanto con la specificità fisica, ma piuttosto con una continuità con certi precedenti architettonici. E a Tokyo il progetto era intriso di una certa radicale sobrietà che creava un momento di silenzio in mezzo al rumore urbano, cercava di allinearsi con la semplicità, con la specificità del progetto non tanto con il contesto quanto con i valori fondanti di una casa tessile. Questo nuovo scenario di lavoro è continuato anche nel 2017 con la commissione per un importante progetto per l'Art Institute a Chicago e per una residenza per artisti a Miami. Sono dei progetti che non posso ancora presentare, ma è importante segnalare che entrambe le strategie di progetto di questi due lavori sono profondamente radicati in una sensibilità architettonica europea che si sforza di rendere manifesta la condizione civica che deve, secondo noi, appartenere ad ogni architettura urbana. La geografia artificiale di Saint-Malo e il carattere materiale della città storica risuonano nel qualche modo nel progetto del Museo Marittimo, uno dei pochi lavori che abbiamo fatto in Francia. E per concludere, più recentemente, i progetti per i musei di Albor, di Cortrich e di Bruxelles manifestano la ricerca di una certa relazione ambientalista, potrei dire, con l'intorno. E per concludere questa presentazione, devo dire che ovviamente il nostro lavoro ha subito un'evoluzione in questi ultimi anni, in questi quindici anni, ma ciò che è rimasto invariato è che i nostri progetti, come i romanzi, tendono a partire, a cominciare da un'immagine, dal ricordo di un momento o da certe sensazioni, da un frammento, da un dettaglio di un muro, dalla luce che definisce un luogo. Cerchiamo sovente il carattere di un luogo in certe condizioni inespresse, frammenti, spazi, materiali, atmosfere, che possono essere trasformate, tradotte in nuove architetture, per preservare ed accentuare l'identità originale dell'architettura e del luogo. In un certo senso, ciò che ci interessa, per dirlo con le parole di Miguel de Unamuno, ci interessa l'intraistoria dei luoghi, la storia minore. È spesso la storia minore che è alla base di ciò che ricerchiamo in un progetto, non la storia alta, ma i frammenti minori che costruiscono una realtà e il suo carattere, la sua identità. Per noi lavorare in continuità, come ho cercato di spiegare, significa lavorare in continuità con questa storia minore. E a volte, per concludere, ci sembra che la nostra ricerca abbia gravitato attorno a un lavoro continuo, ossessivo e forse inconscio di immagini lezioni che hanno segnato i nostri anni formativi, quando abbiamo scoperto che una scala poteva volare da un'isola all'altra, rivelando un orizzonte sempre diverso, ma sempre lo stesso. Grazie.